Ma quando torno a Padova, vestito a casa mia! Presidente, una tessera di socio onorario del club Padova nel cuore in questa prestigiosa sede? Penso che sia uno dei club che diventerà più rappresentativo della città di Padova, per la location dove è stato costituito, non importa chi ci parteciperà perché saranno comunque dei sostenitori del calcio Padova e penso che possa essere una fonte di traino anche per altre iniziative di questo tipo, me lo auguro. Già questa sera siamo giunti a 120 iscritti. È un numero importante, credo che sia uno dei club più numerosi. È il più numeroso attualmente. È il più numeroso attualmente, pertanto è di buon auspicio. Credo che chi ha avuto questa iniziativa, partendo dal tifoso Borsatti al giornalista Campagnolo, sia una delle cose che in qualche modo devo anche, a nome del calcio Padova, rivolgere dei ringraziamenti e dei complimenti per questa iniziativa. Dobbiamo riconoscere che questo è un momento positivo e fertile per la nascita di nuovi club. Oltre al nostro ce ne sono degli altri, è un segnale positivo, i tifosi padovani si stanno re-innamorando della loro squadra. Diciamo che era un pochettino, nelle settimane scorse c'è stata un po' di preoccupazione in questo senso, al di là del numero degli abbonati eccetera. Io credo che i veri sostenitori del Padova verranno fuori, verranno fuori non soltanto in funzione dei risultati che otterremo, proprio per l'ambiente che si sta creando, per la voglia seria di sostenere questa società. Noi per primi siamo quelli che in qualche modo vogliono raggiungere degli obiettivi importanti, se siamo sostenuti l'entusiasmo cresce e anche la gratificazione a quello che stiamo facendo credo che sia importante. Ma quando torno a Padova, mi sento a casa mia!